Ba raga e benvenuti in questo nuovo orribile video o forse dovrei dire in questo nuovo orribile video extra, video straordinario, video non in programma perché si tecnicamente questo video non è in programma e non dovevo registrarlo ma semplicemente lo faccio per aggiornarvi su un po' di situazioni, per un po' di cose e soprattutto per dirvi che finalmente dopo mille peripezie ho comprato la webcam nuova e la storia che c'è dietro a questa videocamera soprattutto per quanto riguarda l'acquisto è stata un po' particolare e sotto certi aspetti anche fa piuttosto ridere quindi ve la volevo raccontare comunque il tutto inizia all'incirca 2-3 settimane fa, dipende quando uscirà questo video quando ho deciso che era il momento di prendere finalmente una videocamera seria una videocamera che registrasse 60 fps per poter registrare al meglio i miei contenuti che porto sul canale e allora mi sono giustamente appropinquato alla ricerca di una webcam che potesse rispecchiare tutte le caratteristiche che io andavo a cercare ne avevo trovata una, era una Razer, una Razer Kio Pro, l'avevo trovata su un sito che uso spesso per comprare oggetti online mi è piaciuta, mi sono documentato, rispecchiava le caratteristiche e ho deciso di comprarla la compro, aspetto un giorno, vedo che il venditore ancora non l'ha spedita aspetto un altro giorno e vedo che ancora il venditore non l'ha spedita ora sull'applicazione che stava usando c'erano 5 giorni a disposizione per il venditore per spedire l'oggetto che gli era stato comprato nel qual caso in cui l'oggetto non fosse stato spedito entro questi 5 giorni il compratore, e cioè io, in questo caso avrebbe ricevuto il rimborso totale dunque siamo arrivati al terzo giorno, al terzo giorno ancora niente al quarto giorno ancora niente allora la sera del quarto giorno cosa faccio? decido di scrivere al venditore e di scrivergli tutto ok con la spedizione questo qui mi gosta completamente, non mi risponde, proprio ignora il messaggio completamente come se non l'avesse neanche ricevuto fatto sta che il giorno successivo ho ricevuto il rimborso completo dei soldi che avevo speso per l'acquisto e dunque mi sono messo a cercare altre videocamere ne avevo trovate tre, quindi prima di fare l'errore che avevo fatto in precedenza ovvero quello di prima acquistare e poi verificare che il venditore effettivamente me lo spedisse ho deciso di scrivere a questi tre venditori in privato per chiedere dettagli sulla videocamera che andavano a vendere tutto questo era solo una scusa per vedere se i venditori erano attivi e mi rispondevano fatto sta che ho scritto a tutti e tre e nessuno dei tre mi ha risposto gostato completamente di nuovo ma neanche una volta tre volte tre maledette volte e mi hanno gostato proprio mi hanno ignorato non gliene fregava niente allora mi viene giustamente la domanda scusami un attimo ma tu cosa le metti in vendita a fare le cose se poi non hai voglia di venderle se poi non rispondi ai compratori fammi capire disperato parecchio disperato signori miei perché io volevo la mia videocamera nuova e mi serviva il più presto possibile si può dire la sera di qualche giorno fa alle 11.40 circa trovo l'annuncio di una videocamera scrivo al venditore e magia alle 11.30 adesso non mi ricordo di preciso comunque era quasi mezzanotte lui mi risponde mi risponde io gli avevo chiesto se fosse incluso un cavo nella confezione o una cosa leggera adesso non mi ricordo lui mi risponde si è incluso se la compri domani te la spedisco gli ho chiesto altri dettagli per vedere se fosse una persona seria a cui comprare mi è sembrato di si e quindi io ho sborsato io ho sganciato signori miei ho sganciato e finalmente dopo una storia infinita dopo l'Iliade e l'Odissea sovrapposte messe insieme per comprare questa videocamera finalmente oggi quest'oggi all'arba all'arba sì all'arba all'alba del 30 agosto mi è arrivata e me l'hanno recapitata a casa mia dunque io direi di non perdere troppo tempo e facciamo l'unboxing di questa nuovissima e fantastica videocamera che ha un sacco di caratteristiche veramente molto fighe e ve le spiegherò nel mentre comunque prendo il pacchetto prima mi va un goccio di caffè scusate finito il caffè caffettino pomeridiano non deve mai mancare eccola qua signori miei questa è la videocamera è una Elgato Facecam che registra in 1080p quindi full HD a 60 fps comunque io direi di non perdere tempo e procediamo all'unboxing della videocamera signori miei spacchettiamo guarda che che confezione no eh ho strappato la confezione comunque stavo dicendo che confezione premium che che bella cosa che che bello signori miei che bello allora ci siamo siamo pronti siamo pronti 3 2 1 ah c'è il libretto delle istruzioni sopra quindi ancora non l'ho vista ci siamo tolgo il libretto vediamo un po' com'è non c'è non c'è la videocamera neanche il cavetto per collegarla mi hanno messo cioè non c'è niente mi hanno scammato com'è possibile che non ci sia aspetta forse un'idea ce l'ho un'idea ce l'ho e non c'è perché la sto usando in questo momento signori miei gli occhi più attenti se ne saranno accorti ebbene sì sto usando la videocamera nuova per registrare questo video ti sei caccato addosso onestamente mi sono caccato addosso anch'io quando l'ho aperta la prima volta però era dentro è nuova perfetta bellissima videocamera della madonna fluidissima madonna guarda qua potrei tirare un cazzotto contro lo schermo e prenderebbe ogni millisecondo del mio pugno che si dirige verso il monitor comunque adesso ve la faccio vedere estraggo il telefono monto il treppiede e vi faccio vedere la videocamera com'è là fuori vi faccio vedere un pochettino il software quindi ci si becca direttamente nel mio telefono ed eccoci qua signori miei come potete vedere qua su OBS ci sono io e questa è la stupendissima fighissima elgato facecam che ho comprato guarda che bello è grossa cioè se noi la guardiamo in confronto alla mia vecchia videocamera che è questa qui questa AUK poverina a cui sono parecchio affezionato perché tutto è iniziato con questa qui beh è guarda guarda qua è il triplo è il quadruplo è il quintuplo madonna è gigantesca comunque allora signori miei questo qui è il software e si io uso due monitor perché un monitor lo uso per un altro computer o come secondo monitor per il mio computer principale e questo lo uso per giocare quindi di solito OBS sta di qua ci sono un sacco di cose fighe da fare come ad esempio lo zoom guardate qua bellissimo poi abbiamo come potete vedere tutti i settaggi del contrasto comunque niente di diverso da quello che può fare Windows ma qui lo fa meglio perché è il software proprietario della videocamera oggettivamente io mi vedo un po' giallo però sono sicuro che è una cosa estremamente risolvibile con il software perché qua ad esempio vedete posso modificare la temperatura guarda guarda divento blu poi divento giallo fantastico comunque signori miei un sacco di cose fighe un sacco di cose in più e se non sbaglio vi avevo promesso addirittura un tour del setup attualmente il setup non è completo nel senso che voglio aggiungere delle particolarità in più voglio sistemare un pochettino meglio le cose ma vi faccio vedere a grandi linee che cosa c'è nella mia postazione mi alzo in piedi allora la mia postazione tecnicamente inizia da là sopra dove ci sono innanzitutto due computer vedi uno e due qua ci sono una distesa infinita di monster madonna sta luce aspetta che la tolgo che se no non si vede niente una distesa infinita di monster perché faccio la collezione sono un collezionista alcuni direbbero che sono semplicemente un accumulatore seriale io invece la rendo un po' più soft e dico che sono un collezionista comunque qua ci sono due schede video una gtx 1080 una delle due che usavo prima qua c'è una 580 e là sopra dietro ai computer ci sono altre scatole di schede video in particolare ci sono una 750 una 750 ti tutte di nvidia una 6 e 30 una gt 6 e 30 adesso non mi ricordo bene che cosa c'ho qua c'è un televisore da 42 pollici che non uso si signori miei non lo uso perché non mi serve l'ho messo lì semplicemente perché ho cambiato il televisore che ho in soggiorno e pur di non buttare questo qui ho deciso di appenderlo su al muro comunque continuiamo con il tour signori miei qua abbiamo una playstation 3 modificata mega modificata perché c'è il custom firmware adesso non mi ricordo quale versione c'è però comunque mi permette di fare un sacco di cose fighe come regolare la velocità delle ventole e scaricare i giochi gratis soprattutto scaricare i giochi gratis qua abbiamo diversi hard disk alcuni totalmente inutili come ad esempio questo qua questo qua è un hard disk con connettore ID che non mi serve assolutamente a niente lo tengo così per bellezza per spirito da accumulatore seriale là dietro non vi faccio vedere che cosa c'è perché c'è una tastiera è solamente un altro casino di cose che è meglio che non vedete questa è la luce di prima che io metto qua di solito per illuminare un po' tutto ma anche questa la sostituiremo perché ho preso una luce soffusa decisamente migliore teoricamente mi dovrebbe arrivare a giorni a giorni ovvero tra una decina di giorni quindi magari ve la farò vedere più avanti qua abbiamo uno e due schermi e qua abbiamo uno e là dietro c'è il secondo computer dietro questo pannello spettacolare che vedete qua il mio sfondo dei video è mattonato questo è chiaramente una carta da parati là dietro c'è un altro computer e qua c'è il mio computer principale guardate che bello bellissimo e ancora nessuno ha capito perché dentro ci tengo questo telefonino qua vabbè c'è questo mouse scrauso con questo tappetino ammuffito che devo cambiare anche lì tra poco lo prenderò nuovo prenderò un mega tappetone gigante che prende tutta la scrivania qua c'è sta tastiera che fa schifo e qua c'è il bicchiere del caffè e credo che la postazione sia finita sì non c'è più niente da farvi vedere signori miei una volta c'era lo stereo avevo uno stereo però è caduto un fulmine e il mio stereo si è rotto infatti lì come potete vedere c'è una cassa quella lì là dietro c'è un altro cassone da 220 watt là sotto quel ventilatore adesso questa è una cosa provvisoria chiaramente sto schifo di ventilatore non lo terrò per sempre lì sotto c'è una cassa là dietro c'è il condizionatore e qua sotto qui c'è un'altra cassa un mega cassone da 800 watt che veniva comandato sempre dallo stesso stereo infatti quando accendevo questa crollavano le pareti più o meno però non lo posso più fare e non lo posso più fare perché non ho lo stereo comunque signori miei io direi che credo di avervi fatto vedere tutto quindi possiamo passare alla conclusione del video e ai saluti dunque signori miei questo video aggiornamento credo possa finire così fatemi sapere con un commento cosa ne pensate di questa nuova videocamera che ho preso a me piace tantissimo arriviamo almeno a boh 400 like ci possono stare per questo video e soprattutto non dimenticate di iscrivervi a questo orribile canale perché prossimamente arriveranno un sacco di novità soprattutto grazie alla nuova videocamera perché come vi annunciai nel video di 10.000 iscritti ci sarà un video sulla palestra e non vedo l'ora di registrarlo ci sarà una live durante il mese di settembre comunque vi terrò aggiornati soprattutto nelle storie instagram quindi andatemi a seguire tutti su instagram e direi che per questo video è tutto io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche in questa avventura e ci si becca al prossimo video addios ma passiamo ora ai saluti di oggi devo sganciare il telefono dal treppiede perché l'avevo incastonato e possiamo iniziare con i saluti di quest'oggi saluto il pro assoluto tremn fink 8691 nicolas 7847 salvatore restivo andre marconestico o marconestico non so come si pronunci bene 55 leo 2713 christopher e samuel ottaviano lorenzo s06 e thomas di marco signori miei per i saluti di oggi è tutto mi raccomando se ho dimenticato di salutare qualcuno commentate con l'hashtag angolodeisaluti e di fianco il nome o il nickname con il quale potete essere salutati io vi saluto e ci si becca al prossimo video addios